Oroscopo del giorno. Giovedì, 21 settembre 2023. Ariete. Amore. Una nuova giornata positiva, per l'amore e per le emozioni. Questo sarà un momento favorevole grazie a Venere, e tutto andrà per il meglio per le relazioni, e anche per chi cerca compagnia. Lavoro. La posizione opposta di Marte purtroppo, porterà a problemi ed energie molto basse. Toro. Amore. Il transito di Venere sarà nemico. Potrebbe essere un giorno un po' complicato per le relazioni sentimentali, e purtroppo potrebbero esserci problemi con il partner. Non sarà un giovedì semplice, nemmeno per i single. Lavoro. Le novità per il lavoro potrebbero non mancare, sfruttate le occasioni che si presenteranno. Gemelli. Amore. La posizione di Venere sarà ancora buona per voi. Questo sarà un giovedì, in cui potrebbero esserci delle sorprese piacevoli, se avete voglia di emozioni e situazioni nuove. Lavoro. Marte sarà in splendido aspetto, per cui le energie saranno particolarmente alte. Cancro. Amore. Una giornata di metà settimana che non regalerà delle grandi novità, ma nemmeno degli immensi problemi nei rapporti. Sarete presi da tante cose. Lavoro. Gli impegni non mancheranno, e le stelle saranno dalla vostra parte. Potrebbero arrivare delle gratificazioni professionali molto interessanti. Leone. Amore. Il giovedì di settembre non sarà per niente male, anzi. La posizione di Venere sarà sorprendente, e porterà romanticismo e passione. Sia per le coppie e sia per i single ci saranno emozioni. Lavoro. E' improbabile che avrete delle situazioni un po' e complicate in ufficio, le cose non saranno così semplici. Vergine. Amore. Una nuova giornata che non porterà novità in amore, anche se vi permetterà di poter capire qualcosa in più, rispetto ad una persona o ad un rapporto. Lavoro. Ottime stelle per il vostro lavoro. Ci saranno delle soddisfazioni, delle buone nuove. Bilancia. Amore. Il transito del pianeta dell'amore sarà favorevole, per voi e la vostra relazione sentimentale. Se siete single, gli incontri di oggi potrebbero rivelarsi ricchi di passione. Lavoro. Saprete dove impiegare tutte le energie che le stelle vi doneranno, durante questo giovedì di settembre. Scorpione. Amore. La posizione di Venere contraria continuerà a darvi parecchio filo da torcere in ambito sentimentale, e nel rapporto con il partner. L'aria tesa si respirerà anche nei rapporti di conoscenza nuova per i single. Lavoro. Diverso sarà il discorso professionale, perché Mercurio sarà in un aspetto ottimale. Sagittario. Amore. Le relazioni sentimentali saranno favorite durante questa giornata. Venere proteggerà le storie d'amore, ma anche tutti quei single che sentiranno il desiderio di fare un nuovo incontro. Lavoro. Mercurio non porterà a nulla di buono purtroppo. Potrebbero esserci problematiche e tensioni con i colleghi. Capricorno. Amore. Un giovedì senza delle grandi pretese in ambito amoroso. Le stelle non vi riserveranno un giorno speciale, ma questo non significa che sarete a corto di emozioni. Lavoro. La stanchezza sarà tanta, per via della posizione sfavorevole di Marte. Però, Mercurio e Giove potrebbero portarvi verso buone nuove gratificazioni. Acquario. Amore. Il pianeta dell'amore e la sua opposizione potrebbero portare a problemi di coppia, o anche ad una profonda crisi sentimentale. Venere non regalerà nuove gioie nemmeno a chi è single. Lavoro. Giovedì tranquillo per il lavoro, soliti compiti professionali da dover portare a termine. Tesci. Amore. La nuova giornata del mese potrebbe portare a qualche discussione, ma che difficilmente riguarderà il vostro rapporto d'amore. Lavoro. Il nervosismo si scatenerà, con i collaboratori e i capi. Occhio all'opposizione di Mercurio, che conseguirà dei cambiamenti in ufficio. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. 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 Grazie a tutti.